Cambiamento, il dover cambiare e il voler cambiare rispetto a tutto ciò che cambia intorno a noi. Rendersi aggiornati di fronte ai cambiamenti. Voglio focalizzare il mio percorso dando attenzione ad ogni piccola azione che compio. Troverò il modo di lavorare un po' più su me stesso e quindi soffermarmi un attimo di più su quelle che sono le mie aspirazioni vere e proprie. Come una vision può cambiare veramente il risultato di una persona, di un professionista o di un'azienda. Quando il perché è forte, il come non è mai un problema. Quanti stamattina hanno fatto tutto di corsa. Alzate la mano. Mi sa quanta gente ha fatto questa battuta oggi. Appena esce di qua fa un biglietto per fare un viaggio. Conoscere nuove strategie da implementare dalle 14 di oggi pomeriggio dalle vostre aziende. Quindi complimenti a tutti e tutte. Grazie. Ma il vero leader è colui che riesce a creare il mio leader. La vision è quel sogno che va raggiunto con una strada che a volte è ostica, a volte è complessa, a volte è difficile. Non esiste, io non posso. Devo trovare la strada, non sono in grado. Non esiste, io non posso.